Musica Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, dunque la Lucchese prosegue nella preparazione, domenica come sapete c'è la prima di campionato, alle 20.30 i rossoneri saranno di scena al Franchi di Siena. Nel servizio che abbiamo preparato andiamo a riproporre gli ultimi due confronti giocati sul campo del Siena, entrambi nel 2016. Il 6 febbraio 2016 la Lucchese, allenata proprio da Lopez, affronta il Siena al Franchi in una gara difficile e complicata. Al terzo i bianconeri locali fruiscono subito di un calcio di rigore per questo atterramento di especia e danni di Mastronunzio. Dal dischetto va Saba che però colpisce il palo alla sinistra di Di Masi. Siena è in vantaggio al decimo della ripresa, cross di Celiento per Cori, il cui colpo di testa è tutt'altro che irresistibile, ma Di Masi si lascia sfuggire incredibilmente il pallone. Pungolata nell'orgoglio la Lucchese reagisce e perviene al pareggio grazie ad una rasoiata di sinistro di Aschong dal limite dell'area, dopo appoggio di Maritato, tutto molto bello. Ma nel finale il Siena si rovesce in avanti e a ridosso del novantesimo torna in vantaggio. Torelli apre sulla destra per Cedricche che rientra e arma il mancino per battere un incerto di Masi. La Lucchese finisce 2-1 per la Robur, da lì a pochi giorni l'improvviso esonero di Lopez, ma quella è un'altra storia. La Lucchese torna a Siena esattamente dieci mesi dopo, è il 5 dicembre 2016. Dopo un primo tempo equilibrato e senza grosse emozioni, la gara si sblocca nella ripresa. I rossoneri di Galderisi, in maglia giallo flow, si portano in vantaggio con Forte, il più lesto arriva a dire in rete da pochi passi dopo che il pallone aveva colpito il palo. La Lucchese raddoppia ancora con Forte che in diagonale batte il portiere senese su assist di Fanucchi. Tardiva la reazione del Siena che accorcia le distanze con Firenze, la cui punizione viene deviate in modo fortuito alle spalle di Nobile. Nel finale non la sfiora al 3-1, ma va benone così. Domenica sera atto terzo, chissà come finirà. Colpaccio della Lucchese che ha preso il forte difensore Antonio Magli, il roccioso centrale che può vantare più di 130 presenze in Serie C, ha militato in prestigiosi club come Brescia, Frosinone e Albino Leffe nelle ultime due stagioni. Il giocatore che qui vediamo con il DS Obedio ha firmato un contratto con la società rossonera fino al 30 giugno 2018 e idealmente dovrebbe prendere il posto anche come caratteristiche fisiche e tecniche di Dermacu. Dicevamo domenica comincia il campionato di Serie C, nella giornata di giovedì dovrebbe esserci il definitivo Lascia Passare se non ci saranno sorprese. Vediamo il quadro completo delle partite della prima giornata. È un girone dispari, come sapete con 19 squadre, quindi a turno una squadra riposerà. Arezzo Arzachena, Cuneo Cararese, Livorno Gaborrano, Monza Piacenza, Olbia Pisa, Pontedera Alessandria, Propiacenza Gianerminio, Siena Lucchese e Viterbese Prato riposa la Pistoiese. Il quadro della prima giornata, sempre nella giornata di giovedì, sarà reso noto il calendario completo. Finora, come sapete, conosciamo soltanto le prime tre giornate. Sempre per quanto riguarda la Lucchese, il calcio è partita la pre-vendita dei tagliandi per il primo match dei Rossoneri a Siena. La società del Siena informa che i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 12 euro si possono trovare su www.ciaoticket.com. Sono in vendita, ma non a Lucca Centro. Vi ricordiamo i punti dove i tifosi della Lucchese possono trovare questi biglietti in pre-vendita. All'agenzia Ottavio Viaggi di Borga Mozzana, alla tabaccheria Edicola Dani di Chiesino Zanese, alla tabaccheria Pieri di Montecatini Terme, alla tabaccheria Emanuela di Pistoia. Questo entro le ore 19 di sabato prossimo. Una notizia in breve che riguarda anche il viareggio. Gli abbonamenti del viareggio calcio saranno in vendita fino al 10 settembre. Prima gara in casa per le zebre in pre-vendita. Sono stati venduti fino ad oggi, come ci segnala il collega Roy Lepore, 180 abbonamenti, che è un numero comunque superiore rispetto al totale complessivo dell'anno scorso, che fu di sole 120 tessere dello stesso Roy Lepore. Ci segnala che alla vicina dell'inizio della preparazione si sono dimessi due allenatori del settore giovanile, Alfredo Casani degli Allievi e Roberto Della Latta, dei giovanissimi A. Siamo all'Atletica, a Pian delle Betulle Lecco in Valsassina. Secondo dell'ultima prova dei campionati italiani di corsa in montagna per le categorie assoluti promesse junior maschili e femminili, con un assolo straordinario, ha vinto la gara. La dovremo vedere adesso in questa foto. La giovane portacolori del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, Irasi Seline, atleta ruandese all'esordio nella corsa in montagna. Seline ha fermato il cronometro in 36 minuti, 18 secondi e 33. Ottimi risultati anche per gli altri atleti del gruppo sportivo Orecchiella, Laura Mugno e Francesca Setti. Di rispettivamente, 13esima e 14esima assoluta nella classifica senior femminile. Dunque oro individuale e bronzo a squadre per la società Garfagnina, che si conferma davvero avere una grande tradizione nella corsa in montagna. Il basket Gianmarco Drocher lascia Lucca il centro minibasket per andare a giocare alla Stella Azzura Roma. Un'academy di pallacanestro e sicuramente uno dei migliori settori giovanili italiani. Classe 2001 e con il primo anno da under 18 che sta per iniziare, Drocher nella capitale avrà la possibilità di giocare i principali tornei europei per club, oltre che esordire in serie B. Ancora basket, ancora centro minibasket che apre le porte della società e dal benvenuto a tre new entry che faranno parte del consiglio direttivo. I nuovi soci li vediamo in questa foto da sinistra a destra, sono il dottor Guglielmo Menchetti, la signora Luisa Colombini-Gnutti e il bancario Giovanni Ricci. Presidente del centro minibasket Luigi Pracchia ha espresso grande soddisfazione per questi ingressi. Siamo al ciclismo perché venerdì sarà presentato ufficialmente il 22esimo giro internazionale femminile della Toscana, che vive e vivrà anche quest'anno come sempre nel ricordo di Michela Fanini. Sarà il Teatro Cinema Artè di Capannori a tenere a battesimo la 22esima edizione del Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo. La presentazione è il programma venerdì prossimo, 26 agosto, alle ore 17. Anche quest'anno, e nonostante la crisi economica, la manifestazione sarà ricca di sport e di iniziative collaterali, molte delle quali saranno dedicate all'indimenticabile Michela Fanini. È ancora vivo il ricordo della campionessa lucchese che, nonostante la sua giovanissima età, appena 21 anni, aveva praticamente già vinto tutto. Un campionato italiano, una medaglia di bronzo ai mondiali in Norvegia, un giro d'Italia e quattro tappe al Tour de France. A contraddistinguere il Toscana 2017 ci saranno numeri da far paura. 22 squadre, 12 straniere, 25 nazioni rappresentate, 160 atleti al viva, un record per una manifestazione ciclistica in rosa. Il tutto senza dimenticare gli 80 volontari che aiuteranno la società di Patron Brunello, organizzatrice della manifestazione, a mettere in piedi un evento del genere. Tre le tappe in programma, un cronoprologo e due frazioni in linea, per un totale di 257 chilometri, con 35 chilometri e una salita in più rispetto allo scorso anno, da percorrere naturalmente tutti in un fiato. Arriva dal Giro del Kosovo, siamo sempre al ciclismo, la settima vittoria stagionale di Amore e Vita, a portare questo nuovo sigillo alla formazione di Ivano e Cristian Fanini, è stato Besmir Banushia. Il corridore albanese è andata alla quarta ed ultima tappa della corsa a tappe kosovara, la Priserem Miramor, con arrivo in salita. Banushia ha chiuso anche al secondo posto nella classifica generale, alle spalle del bulgaro Stanimir Cholakov, del team Unieuro Trevigiani, Emus 1896. Cristopher Lucchesi, il 18enne figlio di Gabriele e di Titti Ghilardi, sarà al via del 53esimo rally del Friuli Venezia Giulia, in programma questo fine settimana in provincia di Udine, al volante di un Abarth 124 rally. È stata una sorpresa per Lucchesi Junior ed invece il papà, insieme al preparatore Michele Bernini, aveva predisposto tutto da tempo per fargli correre una gara tricolore con una delle vetture più in vista dell'ultima generazione. Cristopher sarà affiancato alle note dalla mamma Titti Ghilardi, la corsa scatterà venerdì sera da Gemuna del Friuli. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte.